Per un minuto di storia, oggi parliamo del 23 maggio, data molto rilevante dal punto di vista storico. Il 23 maggio 1498 a Firenze viene ucciso, impiccato e poi arso sul rugo fra Girolamo Savonarola. Il 23 maggio 1945 si suicida il gerarche nazista Himmler e il suo corpo non verrà mai trovato. Il 23 maggio 1992 è il giorno della strage di Capaci, uccisione di Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Ma per chi studia storia, il 23 maggio 1618 avviene la defenestrazione di Praga, una data importantissima perché la data d'inizio della guerra dei trent'anni avviene dopo che dei notabili boemi vengono gettati giù dalla finestra di un castello da funzionali degli Asburgo. Comincerà una guerra che causerà 13 milioni di morti.